L'aula di Montecitorio è anche la sede dell'elezione del Capo dello Stato. Qui vediamo il solenne giuramento del Presidente Carlo Azzeglio Ciampi. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. L'elezione del Presidente della Repubblica avviene nell'aula di Montecitorio a Camere riunite. Votano i deputati, i senatori e i rappresentanti delle Regioni. Questa è l'elezione di Sandro Pertini alla Presidente della Repubblica. Pertini, 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 Bianca, Pertini, Pertini. Pertini, 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 Pertini 995 maggioranza assoluta 506 hanno ottenuto voti pertini 832 3 5 6 10 10 12 12 13 15 15 15 16 16